Ciao, sono Veronica, trainer di Ginnasium e anche mamma di una bambina di due anni. Spesso le ragazze vengono in sala da me e mi dicono che sono incinta e sono preoccupate su cosa possono fare a livello di allenamento da noi in sala. Dico sempre di non preoccuparsi perché l'allenamento è fondamentale per una donna in gravidanza. Fa molto bene sia lei fisicamente e mentalmente ma anche al bambino. L'allenamento in gravidanza si può iniziare fin da subito, fin dai primi mesi e può continuare fino all'ultimo mese. Io riporto sempre la mia esperienza personale. Io mi sono allenata dal primo fino all'ultimo giorno perché mi faceva proprio stare bene non solo a livello fisico ma anche a livello mentale. Il postpartum, avendo fatto l'allenamento prima, è stato molto più semplice e facile. Mi sono ripresa prima, avevo più energia e ho ricominciato ad allenarmi prima. Ho iniziato ad allenarmi dal terzo mese di gravidanza, inizio terzo mese fino al settimo mese. Tornassi dietro inizierei ad allenare prima perché in realtà con la Veronica ho avuto conferma sul fatto di potermi allenare normalmente e tranquillamente e sono stata molto soddisfatta dell'esperienza che ho avuto qua al Ginnasium, soprattutto perché lei è molto competente.